Ancora un incidente stradale, un ferito fortunatamente non grave e ancora traffico in tilt. È successo questa mattina intorno alle ore 10 sulla tangenziale catanese. A scontrarsi a Mister Bianco, all'altezza dello svincolo San Giorgio, in direzione Siracusa, un auto articolato che trasportava materiale di risulta e l'automezzo di una ditta, impegnato nello svolgimento di lavori di manutenzione lungo il ciglio stradale. Lievemente è ferito l'autista del mezzo pesante, condotto in ospedale da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto, mentre il traffico è rimasto bloccato a causa dell'incidente ed è il conseguente rovesciamento sulla strada del carico trasportato dall'autocarro. Sul logo del sinistro sono accorsi anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza degli automezzi e dell'aria e un autogru dell'ANAS per la rimozione dei mezzi. Per favorire i lavori necessari a liberare la tangenziale e ripristinare quanto prima la regolare viabilità, i veicoli in transito sono stati costretti a imboccare l'uscita San Giorgio, qualche disagio per i conducenti che hanno dovuto ricalcolare in fretta e furia il loro percorso. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico veicolare fino al primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto si apprende dall'ANAS, la normale circolazione è stata ripristinata infatti intorno alle ore 15 e 45.